Dunque, darò la risposta per punti. Primo, lo chiedo al Presidente Mattarella. Secondo, ho già detto che per me non c'è un governo senza 5 Stelle. Terzo, ho già detto che per me non c'è un governo Draghi, altro che l'attuale. Quindi questa è la situazione. Ma guardate, questa situazione di fibrillazione, il governo l'ha affrontata abbastanza bene. Continua, come vedete, a lavorare. Oggi abbiamo avviato questa intensa fase di partecipazione, di coinvolgimento con le parti sociali. Abbiamo fatto provvedimenti nei giorni scorsi, affronteremo i problemi dell'Ilva, in sostanza, tutta una serie di, e poi naturalmente, provvedimenti per tutelare, come dicevo prima, il potere d'acquisto dei lavoratori e la competitività delle imprese, più in generale anche il potere d'acquisto dei pensionati, nei prossimi giorni. Per cui queste fibrillazioni hanno avuto, diciamo, sono importanti perché riguardano l'esistenza del governo, ma diventano ancora più importanti se il governo, pur esistendo, non riesce, non riuscisse a lavorare. Questo è il punto fondamentale. Il governo ora riesce a lavorare. Qualora si verificasse una situazione in cui il governo non riesce a lavorare, lo dico anche per tanti altri che dicono che a settembre faranno sfracelli, che minacciano cose terribili, eccetera, un governo con ultimatum non lavora. A quel punto il governo perde il suo senso di esistere.